Non ho giorno di ricerca nelle campagne di Cerignola per rintracciare eventuali indizi di Alessia e Livia, le gemelline svizze rapite il 31 gennaio scorso dal padre Mattias Skepp che il 3 febbraio si è ucciso gettandosi sotto un treno alla stazione ferroviaria del centro Fantino. Questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia non sono impegnati nelle ricerche, compito che stanno invece svolgendo i poliziotti del commissariato di Cerignola della squadra mobile di Foggia e alcuni volontari della protezione civile. Oltre a individuare eventuali tracce della presenza delle gemelle, gli investigatori stanno cercando di capire che fine possa aver fatto il navigatore satellitare che l'uomo aveva con sé. Nella sua auto, l'Audi A6, gli investigatori hanno trovato solo il supporto metallico e il cavo per l'alimentazione. Il ritrovamento del satellitare sarebbe molto importante per le indagini. Infatti, grazie ai dati registrati sull'apparecchio, si potrebbe ripercorrere il viaggio fatto dall'uomo e dalle figlie della Svizzera in Italia. Intanto, nelle prossime ore si svolgerà un vertice tra gli inquirenti per fare il punto della situazione, soprattutto per organizzare il lavoro dei prossimi giorni. Dottore, a che punto sono le ricerche e le indagini sulla scomparsa delle gemelline? Sono molte novità, a parte i punti fermi che già sapete. L'avvistamento abbastanza probabile a Vietri. Chiaramente questi accertamenti che si stanno facendo sulla nave di ritorno dalla Francia. Tante segnalazioni del padre, delle bambine, tutte da verificare. Adesso le ricerche si sono fermate nelle campagne di Cerignola? State facendo altri tipi di indagini? Non si sono fermate le ricerche. Continuano più specificamente in determinati punti ritenuti di interesse. In ogni caso, l'attività investigativa continua principalmente qui da Foggia per verificare tutti gli spostamenti del padre prima di quel tragico tressera.